Col sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna, non è troppa enfasi affermare che oggi si sta facendo una parte della storia sportiva di Grosseto? Non è troppa enfasi, è veramente qualcosa di vero, io addirittura ho la pelle d'oca, sono emozionato, è la concretizzazione di un grandissimo sogno, anche la sintesi della efficacia eccezionale di quando si trova la connivenza positiva tra pubblico e privato, tra l'altro ringrazio anche Mario Ceri per aver consentito alla città di Grosseto, grazie al suo contributo di arrivare nono nel bando della messa in sicurezza e riqualificazione delle periferie e quindi di poter aver potuto attivare anche numerose opere pubbliche che tutti voi vedete, a partire dalle ciclabili ma tanto altro, ma oggi parliamo di sport. Questo è un grande momento per il nostro sport grossetano, un'opera faraonica, un'opera gigantesca, un'opera che consente di mettere al centro di Roselle lo sviluppo dello sport grossetano, non soltanto quindi calcio ma lo sport perché sono tante anche le strutture che sono messe a disposizione dello sviluppo sportivo in generale, ma soprattutto con un occhio di riguardo verso i nostri giovani, quindi proiettati verso il futuro, levando i nostri giovani dalle strade, facendoli creare quello spirito sportivo fondamentale perché si possano poi nel futuro superare le crisi della vita attraverso l'insegnamento più grande che ci possa essere, cioè quello dello sport. Un'ultima cosa, un'ultima considerazione, questo è il centro sportivo più grande che c'è in Toscana e quindi è un fiore all'occhierlo, l'imprenditoria maremmana sa fare bene volendo. L'imprenditoria maremmana non è seconda a nessuno, a noi ci dicono sempre che siamo marginali, che siamo del sud della Toscana, che non siamo capaci, ecco questo è l'esatto esempio di come invece l'imprenditoria maremmana sia capace di fare opere faraoniche, opere meravigliose da mettere a disposizione essendo i primi in Toscana, non soltanto di tutta la città ma soprattutto, come dicevo, dei nostri giovani. Io direi viva Grosseto, viva la Maremma e forza Grifone. Io direi viva Grosseto, viva la Maremma, forza Grifone ma anche viva Mario Ceri perché è stato un grande imprenditore che ha mantenuto la parola. Verissimo.